Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gameret, qui è Francesca, benvenuti in questo nuovo video di Mario Kart 8, infatti anche stavolta ascolteremo appunto le vostre richieste C'è stato detto di utilizzare i Bowserini, se così vogliamo chiamarli, i Bowser in formato mini, quindi io sceglierò Ludwig perché anche nei precedenti video mi è stato consigliato, mentre tu invece... Wendy perché è l'unica femmina Sì, quindi appunto ci dobbiamo accontentare, come mezzo io sceglierei questo qui, il Mac 8, che sembra adeguarsi bene a Ludwig, vediamo un po' le ruote e tu nel frattempo cosa scegli? Certo, Motosetta, Piccole Azzurre, Farabendio, Mario Kart TV Quindi, vabbè scelgo anche io questo, quindi procediamo La prima pista di oggi è la Valle di Yoshi, tra l'altro, cioè fa anche un po' rima, comunque procediamo, siamo prontissimi Una pista piuttosto simpatica, quindi vediamo di dare del nostro meglio stavolta Questa volta vincerò Ecco, questo è quello che credi e che ti dico appunto ogni volta Francesca, come al solito, inizia bene, ecco, come vedete subito parte in quarta E poi, guarda, fa anche l'effetto sonoro, eh, da notare ciò Io me la prendo tutta inderapata, come vedete, e procedo, vediamo, in seconda posizione, appena superata Francesca Com'è possibile? Eh, lo so, io ho troppo potente, ragazzi, la potenza nel palmo della mia mano Dittura qui inza, ma da me sono tutti quanti, c'è? Ci sono diverse vie da scegliere Io logicamente ho scelto quella più lunga, eh? Sì, lo credo anch'io, perché a un certo punto non l'ho più vista, quindi credo che tu abbia scelto la via peggiore Tra l'altro, non credo ci siano vie migliori o peggiori Difende da... No, non so, ma che è sempre colpa mia quando faccio qualcosa, cioè, non è che... Sì, no, no Cioè, siamo, che ne so, dodici in partita, non è colpa mia Sì, ma se io ero in prima posizione, non è che mi vado a pensare a te dietro, eh? Cioè, in realtà sì, potrei colpirti, ma ripeto, non sono stato io Cioè, vedi, hai un guscio rosso, perché non lo lanci? Aspetti di arrivare da me Perché ho aspettato, sì Ecco, l'avevo capito, no? Qualcuno mi ha lanciato il cosero Il cosino blu È stato Donkey Kong Ecco, come al solito I miei sogni di vittoria vengono, appunto, distrutti, infranti in questo modo Tranquilli Con questo mio cut, ma accorto Vincerò Dai, non devi, diciamo, buttarti giù Devi, anzi, darti la carica, perché in questo modo riuscirai di sicuro almeno a dare il meglio di te Sei a ottava Sei a ottava, vabbè, devi recuperare, che facciamo? Non è che... Sono settima Sono testa Io sono in prima posizione, ma... Tra fulmini, saette e cazzate varie, non riesco, appunto, ad arrivare al traguardo Comunque, manca ancora un altro giro Tra l'altro, questo è un setup, ricordiamolo, che ti hanno consigliato nei precedenti video Quindi ringraziamo, appunto, tutti voi che ogni giorno ci date un bel po' di commenti, un bel po' di consigli Perché, come vedete, li utilizziamo tuttora, anche nelle partite che facciamo soli e lei Nei tornei che, appunto, giochiamo per sbloccare nuovi personaggi, nuovi kart Utilizziamo molto spesso i vostri consigli Quindi, ragazzoli, chiaramente, vi ringraziamo Nel frattempo, siamo nel terzo giro Rosalinda, sto venendo a prenderti Dove, Rosalinda? Ecco, la vedi in lontananza Ecco, ti fai anche superare Quindi, credo che sia piuttosto difficile un recupero ora Però, come sappiamo, in Mario Kart nulla è stabilito Sono terza, sono seconda, sono di nuovo terza, sono quarta, com'è possibile? Cioè, Francesca che poi incomincia a fare questi monologhi In cui, appunto, si lamenta delle sue prestazioni su Mario Kart 8 Sono caduta giù Ecco, qua, l'uovo di Yoshi, guarda, dove va passare, porca miseria Mi sono schiantato, devo solo sperare che dietro non ci sia nessuno Ma, in effetti, non credo ci siano altri contendenti Al momento Vediamo Ok, grazie Credo di essere arrivato, dai Me la prendo tutta inderapata, sta curva Mimmi, non lo sai No, pa... Io ce l'ho fatta, ragazzi Tra l'altro, Ludwig ha una testa piuttosto strana Sembra Wolverine Non lo so Vorresti avere capelli come sui Comunque, purtroppo, quarta posizione, sempre meglio della sesta, lì, Caeri Ed ecco il prossimo percorso, ovvero circuito gelato Come vedete, è ambientato in una zona piuttosto innevata Sì, le meduse piuttosto simpatiche, molto diverse da, diciamo, da quelle reali Ecco, iniziamo, attenzione, via Ma è stato punto da una medusa? Da una medusa, no Ma da una traccia, sì, se ricordi Vogliamo raccontare questo evento No, ok, ragazzi, vi raccontiamo un evento privato, va Mettiamolo in questi termini Infatti, eravamo al mare È stato tipo due, tre anni fa, va Mettiamola così, non ricordo quando è stato Quindi, cioè, io e Francesca siamo insieme da circa sei anni E tre anni fa, circa al mare Appunto, Francesca mi raggiunse nel luogo di villeggiatura In cui, appunto, risiedevo Cioè, guardate che termini, ragazzi Un termine aulico Ecco, un termine aulico E comunque, in pratica, non appena Francesca raggiunse la spiaggia Io ero già, appunto, in acqua Nemmeno il tempo di entrare in acqua Ecco, nemmeno il tempo di entrare in acqua Fu il punto, non da una medusa, ma da una traccia Come cazzo si chiama? Sì Da una tracita Non ricordo il nome, magari qualcuno me lo scrive nei commenti E quindi, appunto E lo dovevate vedere mentre si disperava Sì, ragazzi, faceva male Porca miseria Cioè, era un fastidio enorme Poi, faceva molto male Quindi, chiudiamo questa parentesi Spiaggia Anche poi, alvenito Vennero tutti a controllare Che cazzo era successo Perché poi, chiaramente, mi lamentavo come un bambino, no? E quindi, tutti Ma che è successo? Che cavolo è stato? Eh, vaffanculo Che è successo? Fate qualcosa per aiutarmi Comunque, vabbè, chiudiamo Cos'è un squalo? Tutti i casi la mettono Cos'è un animale marino? No, vabbè Non era poi così grave Comunque, chiudendo questa parentesi Piuttosto vergognosa Ecco, Francesca è prima Devo cercare di non perdermi troppi chiacchiere Altrimenti, Francesca ne approfitta Ecco, io becco a Luigi E gli altri colpiscono me Ancora, guardate come mi beccano sti bastardi Vediamo se ce la facciamo Va, attenzione Vediamo, seconda Ancora secondo giro Ecco, ho i gusci I gusci rossi No, i gusci rossi no I gusci rossi sì Quelli fanno male No Vai Ma non è possibile Stavolta ragazza Non ti lascerò vincere Becchiamo Wario Quello chi è? Vabbè, ne ho beccato un altro Povero Donkey Kong Che si è messo davanti Vediamo, vediamo La situazione dovrà rientrare nel mio pugno Vediamo se ce la faccio Credo che sarà piuttosto difficile Sono sincero, eh Però Diciamo Nulla è perduto Quindi Non si sa mai che Potrei fare un sorpasso No, no Questo è quello che credi Sto arrivando Guardati le spalle Ma che Ecco, ora Acceco tutti Tra l'altro Vabbè, mi supera Mario Fanculo Porca miseriaccia Vabbè, credo che la vittoria Purtroppo almeno per ora Sarà tua O forse no Visto che mi è sembrato Che sta arrivando qualcosa di Davvero piuttosto brutto Eh sì Eh sì E purtroppo Lo so Visto che sono ancora in demo Non credo proprio Sto arrivando Sto arrivando Ma non è possibile Anche stavolta ragazzi Ce la contendiamo Nell'ultima sfida Quindi procediamo L'ultimo percorso E pista arcobaleno Davvero in tantissimi Nei precedenti video L'avete consigliata Quindi finalmente Ci siamo decisi A proporla Questa qui L'avevo già fatta Tipo in uno dei miei primi video Su Mario Kart 8 Ma ero da solo Quindi invece stavolta Eh La utilizziamo come Ultimo campo di battaglia Però chi l'ha consigliata Ce l'ha con me Perché questa è Sì infatti Queste piste Sono praticamente odiate Da Francesca Perché appunto Cade molto spesso Va Infatti sono curve Piuttosto malvagie Piuttosto cattive Quindi Nonostante tutto Si ha Una bella Pista E comunque Piuttosto difficile Da gestire Comunque anche stavolta Chiaramente Daremo il meglio di noi Tra l'altro vedo Il trenino lì Nella mia visuale Non so se lo vedete Anche voi E c'è un Toad Che distribuiva monete Lassù Tra l'altro Io mi tengo in mano Questo qui Appunto questo cubo Mediante il quale Appunto Distruggere tutti coloro Che si avvicinano Francesca nel frattempo Non dice nulla Perché Quando non parla Vuol dire che Francesca Sta progettando qualcosa Si stava concentrando Perché ti ho visto Con un dish Con un guscio rosso In Mario Volevi colpirmi Eh Sì volevo provare A superare prima Mario Però per sbaglio Ho utilizzato anche Il fottutissimo cubo Lì vabbè non importa Dai non è che Ora ci disperiamo Per sta cosa Comunque Devo giocarmela bene Poi sta pista È molto colorata Tra l'altro Ho notato Che nonostante Comunque realizzi I video Comunque in 720p Anche talvolta In 1080p Questa pista O meglio in generale I video di Mario Kart 8 Comunque a volte Vengono sgranati Credo ragazzi Che dipenda dal fatto Che poi I video su youtube Vadano in 30 Appunto frame per secondo Anche se comunque Ci sarà l'aggiornamento Dei 60 fps Anche se Non credo A breve Comunque Diciamo Vorrei in qualche modo Proporvi Video di massima qualità Come sto facendo Chiaramente per gli altri video Spero appunto Che li appreziate Nel frattempo Francesca non parla Vabbè a parte Che mi lascia parlare È sesta Ed è caduta Quindi Credo che per te Ormai sia finito Il percorso Visto che Credo che Sia piuttosto breve Vediamo Io l'ho superato Ho vinto Quindi ragazzi La sfida E anche stavolta È di Joseph Gamer Ammettiamolo Perché non lo ammettiamo Cioè Perché quando Non ci gioca più Ecco Non ci gioca più Invece ragazzi Tranquilli Ci giocherà Per le prossime sfide Quindi ragazzi Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Vi ricordiamo quindi Che cosa Dai Lasciate un commento In cui ci consigliate Le prossime piste Personaggi Non dimenticate i setting Perché non li consigliate mai Infatti Poi Un mi piace Appunto a questo video E soprattutto Ed iscrivervi al canale Nel caso in cui Non fosse già iscritti Quindi ragazzoli Noi vi salutiamo E alla prossima Ciao 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 uran Grazie a tutti.